Il Piazza degli agenti è un nuovo servizio che FNARC Milano dà ai propri associati, è una ricerca qualificata di agenti di commercio, qualificata perché le aziende che partecipano a questa nostra iniziativa che condividiamo con Runstad si impegnano a applicare l'accordo economico collettivo nei contratti che andranno a fare con gli agenti. Stiamo facendo una battaglia per cui anche le vendite online possano essere riconosciute agli agenti di commercio. Viviamo in un sistema, le aziende e noi siamo partner, è giusto affrontare questo sistema insieme. Abbiamo previsto che anche l'agente svolge delle attività di vendita tramite l'e-commerce, possano essere riconosciute delle provvigioni. Abbiamo scelto Runstad anche per il fatto che ha una divisione specializzata nella ricerca e selezione di agenti di commercio. Questo quindi è la nostra attenzione verso il nostro associato, ma in generale verso la categoria. La nostra idea e la nostra intenzione è quella di mettere a disposizione quindi un servizio che permetta alla gente di individuare delle opportunità di sviluppo della propria attività. La caratteristica perché è il ruolo di FNARC, quindi perché FNARC è importante nell'ambito all'interno di questo servizio? Perché FNARC è garante dell'applicazione degli accordi economici collettivi ai contratti e ai mandati che vengono offerti da parte delle aziende. Abbiamo pensato appunto a un servizio per cui Runstad accoglie e quindi si mette a disposizione per fare dei colloqui conoscitivi, nel vero senso della parola, dove quindi Runstad offre un servizio consulenziale di indirizzo verso il modo di presentarsi anche da parte dell'agente di commercio nei confronti dell'azienda e tra le altre cose mette dalla possibilità di essere inseriti, di inserire il curriculum all'interno di un database privilegiato. Questo che cosa significa? Che i nostri associati riceveranno in via prioritaria le offerte che sono in linea con le loro caratteristiche, con le loro specificità. Gli agenti di commercio sono un business molto importante. Avere la collaborazione con FNARC significa riuscire a raggiungere molti agenti di commercio. Molte nostre aziende ci chiedono questo tipo di figure e per tutte le nostre aziende clienti l'agente di commercio è una figura fondamentale per incrementare il business e per riuscire a sviluppare il proprio fatturato. Quindi noi cerchiamo di aiutare sia l'agente di commercio a trovare nuovi mandati, sia l'azienda a sviluppare il proprio business. STAT è un'agenzia per il lavoro, siamo la prima azienda al mondo nel settore delle risorse umane, ci occupiamo di HR a 360 gradi, quindi dalla formazione alla ricerca e selezione fino ad arrivare alla somministrazione del lavoro che è il nostro core business. Grazie a tutti.